E se a caso dovete avere un'ampliazione di quantità di ministeri per questo periodo in Ossilandia. Dopo la feccia di Awe, con il governatore di Aruba, con la mia persona presidente del Parlamento del caso, abbiamo discutito alcuni fattori, alcuni negoziamenti con lo continuo. E fuori di oggi, voglio desiderare il nostro popolo completo, grazie al popolo completo per la forma civica che ha dimostrato anche il periodo tra l'Omba, di Aruba, in tutto il caso, a esercire il suo derecho di voto e a esercire in una forma più positiva. Pag. Stocco, ho avuto con il concetto di risultato, ho avuto molti anni di presidente del Parlamento, ho avuto un'idea di capire la prossima parte della posizione globale del governo? Ho avuto un'idea di più oltre? No, nel momento non è qui, la negoziazione non è iniziata, ma non è iniziata, non è iniziata, electoralmente, per questa elezione anche, grazie al nostro allenatore di Stancco, di una confianza, un bianco a me persona, per il periodo tra l'Omba di elezione, il partito, arriva su mesi, ha cresciuto un gran candidato, il Partito di Pueblo Urbano, AVP, qual è una parte di Gietambe, ha cresciuto un gran candidato di voto, però, da oggi, la negoziazione, la conversazione deve cominciare, per cui la tratta è differente, funziona il pubblico, per cui cada candidato, nel caso, che cada candidato lo possa esercire, per cui la tratta è iniziata. e la funzione del Pueblo, adunato in Giele. Meno che abbia un ticco di bambi, sì, meno che abbia cominciare, l'opera di fai, è importante, congiuntamente, con tutti i colleghi, congiuntamente con il leader di partito, congiuntamente con i problemi esteri, del Paese Aruba, arriva, accorda, arriva, conversa, per vedere, finalmente, l'opera e la funzione. La grande rephrase è la pregunta di Babu, che cosa vuoi aspira il governo e il gabinete nuovo? Mi chiede di una maniera, che ora tratta la mia campagna, la mia campagna individuale, la mia persona, che si tratta di essere a Aruba, di qualche funzione pubblica, di caso, che quattro anni, come Presidente del Parlamento, tre anni e mei, come Presidente del Parlamento, non avevo una buona esperienza, nel processo legislativo, non avevo con la struttura democratica, di nostri paese a funzionare, e naturalmente, se si tratta di un seguente reto, o a rappresentarne di lante, sia di menestri posti di funzione, nostro teclare passi a che sicuramente, con tutto il reonore.